C'è una zona oscura del web in cui i bambini rischiano di diventare vittime di adescatori e subire ricatti e abusi, spesso di natura sessuale. Se dall'oto la familiarità che i giovani hanno verso le tecnologie fa invidia alle generazioni precedenti, d'altra parte sono gli stessi genitori a temere le insidie che la rete può riservare ai propri figli, i quali, senza troppi ostacoli, possono navigare sui siti dei contenuti non adatti alla proprietà. Secondo il deputato 5 Stelle Ignazio Corrao del gruppo EFD, per agginare il problema degli abusi su internet basterebbe prevedere, oltre ai benefici offerti dalla rete, i risvolti più preoccupanti. Stiamo parlando di una fattispecie, di un qualcosa, di una gravità inaudita, perché è chiaro che tutto quello che riguarda internet fuoriesce la gran parte della regolamentazione sia da parte degli Stati e soprattutto da parte dell'Unione Europea, che non riesce a correre alla stessa velocità con la quale corrono i nuovi mezzi tecnologici. Purtroppo, dalle tante cose positive che scaturiscono dalla crescita, dal miglioramento della tecnologia, ci sono anche degli effetti negativi, quelli che possono essere appunto reati come questo. Noi dobbiamo cercare di trovare, di riuscire a trovare lo stesso tipo di velocità e quindi aggiornarci a quello che sono queste nuove tecnologie. Grazie a tutti.